Ha davvero senso oggi, cari amici, fare editoria o fare comunicazione pensando di rimanere ristretti nell'ambito del proprio paese, quando in realtà stiamo vivendo in un mondo globalizzato. In realtà i confini vanno molto al di là di quelli del nostro paese. Ecco, non è quello che sto dicendo pensare così da pazzescamente in grande. E' cercare strade di comunicazione che possono essere comprensibili, intellegibili a qualsiasi altra realtà che sia quella del nostro paese, oltre quella del nostro paese. Bene, cari colleghi editori o cari colleghi che volete fare dell'editoria, io qualche idea ce l'avrei per cominciare a risolvere questo problema di riuscire a dialogare non soltanto nell'ambito della nostra Italietta, ma nell'ambito globale. Ne vogliamo parlare? Battete un colpo. Siate editori, siate investitori, siate persone che vedono il domani anche nella chiave di una corretta divulgazione culturale. Grazie. 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 Grazie.